buongiorno a tutti ragazzi io sono word b23 benvenuti a questo nuovo video ventitresimo episodio dell'era glaciali avventure ice ice adventures il disgelo the meltdown buona visione per il video spero che lo fermo perché se vedo il disgelo impazzisco raga buona visione un attimo ragazzi perfetto allora raga che facciamo raga ecco qui l'habitat l'abbiamo quello è lui raga costa 200 ghiande perciò per prima cosa salverò tutto il branco e poi gli animali vediamo cosa mi ha mandato la comunità qua c'è un altro oterodattilo che si fa raga se i mammati erano perciò perciò si i mammati erano perciò perciò a 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 ok here we go find the shell, win a prize i got this let me at it find the sheepers kittens play yes bugs your lucky day huh i think i can make room for you now that can shine unless i grow wings and fly i can't get over it i can't get over there till i clear a path shilly what can i do to help see this is why you bring a man honor okay okay raga watch this gotta chop down some trees to make a path are you crazy i can't get over there are you crazy what do you guys need good job dobbiamo aspettare due ore raga per ripararsi il pirata è la l'isola è piccola però eh scusate raga ma ho salvato il tricerat dopo da solo se no aspettavamo altre ore torniamo a casa salpiamo rana salpiamo rana ah la 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 per la 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 andiamo a salvare le speronnite il triceratopo dopo che raga c'è trveschio il triceratopo dopo che raga il triceratopo dopo che raga il triceratopo dopo che raga andiamo a salvare il triceratopo che raga non le spreco le ghiande sono stato io l'idio non è che l'ho fatto opposto sono stato io l'idio per punizione fin quando non salverò il cucciolo non prenderò sono di qua nelle parti più facili già ho perso due ghiande non 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 wow che fortuna ho recuperato le due ghiande raga che avevo perso per l'adventure welcome to sitopia say hello to 11 tons mani's on the case l'hai già detto una ghianda ottimo un bopio bassa la luce Here I come Unless I grow wings and fly Right, here we go 44 Giochiamo al minigioco Giochiamo al minigioco Great, almost there Perfect for those hard to reach itches Yes Awesome combo Great job buddy Almost there Stayin' cool Now that's a move Great Wow raga We bug you Like a champ Great Almost there Come on, you can still do it. Nice! Good job! Ah, you're right! Almost there! Doing good, pal! Okay, we're going to build the habitat for the esperonis. I love these guys! We're going to build the habitat for the esperonis. We're going to build the habitat for the esperonis. We're going to build the habitat for the esperonis. We're going to build the habitat for the esperonis.